ariete senza che tu te ne accorgessi sono maturati i tempi per dare una svolta alla tua vita ma sarai pronto per questo toro si presenteranno diversi imprevisti e problematiche da gestire seppur riuscirai a risolvere tutto l'umore ne rimarrà assegnato e stacco gemelli energetico ed effervescente affronterai la monotonia sentimentale e lavorativa con un po di attività all'aria aperta cancro sentirai una complicità e un'attrazione che vanno al di là delle sensazioni a pelle che sono desiderio di vivere l'altro pienamente tanto da diventare una cosa sola leone mercurio nel segno far emergere tutta la tua preparazione competenza e determinazione vergine l'ottimismo è il sale della vita senza dubbio dà sapore a ogni istante della tua giornata bilancia potrebbe essere una giornata difficile o un bel tavolo di prova per la complicità di coppia qualche discussione qualche malinteso e non ci sarà da annoiarsi oggi scorpione progetti idee oggi tutto sarà un'opportunità di crescita per il futuro nel tuo lavoro non avrai limiti se non la tua stessa fantasia sagittario oggi puoi sperimentare e progettare per realizzare i tuoi desideri dovrai solo avere la pazienza di aspettare ancora un po capricorno pensa a prenderti cura di te qualsiasi cosa oggi dovrà essere rimandata ora è tempo di pensare a te acquario venere riuscirà nella titanica impresa di invadere e conquistare quel territorio proibito che è il tuo cuore pesci cedere alle tentazioni oggi se sei in coppia è garanzia di un incubo domani marte amoreggia con chiunque ricambi i suoi ammiccamenti